Ciao ragazzi, io sono Lorenzo, ci troviamo alle giornate professionali di cinema di Sorrento un evento in cui produttori, distributtori, anche talent, attori, registi presenziano appunto per presentare i film in anteprima che vedremo in uscita l'anno prossimo ieri abbiamo avuto l'opportunità di intervistare un bel po' di persone abbiamo visto il regista Max Croci Ross, passati che ti saprei messi la macchina abbiamo intervistato il regista Max Croci con il film La Verità, vi spiego sull'amore è stata un'intervista abbastanza interessante, come spero potrete vedere dai contenuti che vi proporrò in questo video è l'obiettivo lì, ok, va a posto Ciao ragazzi, io sono qui di fianco a Max Croci, il regista di La Verità, vi spiego sull'amore un film tratto tra l'altro da un libro, se non vado errato quindi Max io ti chiedo come hai trovato lo spunto, l'idea per questa pellicola visto che ti sei ispirato a questo libro, suppongo che lo avrai anche letto certo, allora in realtà il romanzo nasce da un blog, il successo è scritto da Enrica Tese che è un'autrice torinese il blog è poi diventato un romanzo e in realtà l'amice è stata accesa, è stata innescata da Guglielmo Marchetti che è il produttore del film, che ha letto il romanzo, se ne è innamorato, ha deciso di produrlo, di trarne appunto un lungometraggio e ha pensato subito ad Ambra come protagonista e vedendo anche i lavori che abbiamo fatto insieme alla fine è arrivato a me, quindi diciamo che io con Ambra avevo già fatto delle cose dei cortometraggi e un lungo che è uscito pochi mesi fa e ci siamo ritrovati sul set di questo film e quindi per quanto riguarda questo nuovo film, come sono andate le riprese? ci sono stati inconvenienti? è stata una sfida? no, vabbè, l'inconveniente, la sfida è sempre quella di portare a casa il film in sei settimane che è una durata dignitosissima, però per un regista, soprattutto per un regista come me, non sono mai sufficienti vorrebbe sempre una settimana in più, gli manca sempre qualche giorno per fare quell'inquadratura in più per risistemare una scena, andrei avanti probabilmente per mesi però sono riuscito a fare tutto magnificamente nelle sei settimane e non ci sono stati in top è stata veramente un'ottima lavorazione anche perché comunque eravamo tutti molto affiatati sia per quanto riguarda la troupe tecnica, avevo già lavorato con il direttore della fotografia Fabio Zamarion che con gli attori, molti dei quali appunto conoscevo già in primis Ambra e altri sono stati inglobati nella famiglia certo, ma infatti insomma tu avevi già lavorato con Ambra ma come mai è nato questo sodalizio con lei? è nato qualche anno fa con un cortometraggio avevo scritto questo corto molto breve, molto semplice che si chiama Countdown e avevo pensato lei come protagonista, erano due protagoniste femminili lei e l'avvocato divorzista che segue appunto la causa della protagonista che è interpretato da Carla Signoris lei ha incarnato magnificamente quel personaggio che avevo scritto ma veramente tirando fuori delle cose mie molto forti eccetera per cui da lì è dato questo amore che poi si è continuato con il corto successivo che si chiama Ladies Room un terzo corto che si chiama Era Bellissima il film dell'anno scorso e poi finalmente questo e hai progetti per film futuri con lei? chi può dirlo? questa è stata una bella prova perché insomma Ambra è in scena praticamente dall'inizio alla fine del film quindi abbiamo lavorato veramente tanto abbiamo discusso, abbiamo costruito insieme i personaggi è stato veramente impegnativo certo che sei settimane hai detto come vincolo produttivo questo è quello che ormai la durata più o meno della versione del film è quella questi vincoli produttivi li hai avuti anche durante le riprese di film precedenti? sì, diciamo che ho sempre chiuso film in sei settimane sempre, sono al terzo però tre su tre io Max ti ringrazio grazie a te è stato un piacere anche per me mi raccomando andate al cinema a vedere il film come sono veramente deve fare la promozione pessimo no ma andateci veramente perché è un film importante moderno ciao ragazzi ciao grazie grazie a te ora ragazzi visto che io sono accreditato e entrate con me in modo tale che vi possa mostrare gli interni di questo evento a voi proibito perché io la credito quindi io posso entrare e voi no in sostanza ma venite con me perché vi mostro un po' di cose io mi sento abbastanza in imbarazzo a fare queste cose in realtà perché qui in sostanza sono tutti in giacca e cravatta tutti vestiti come bene tutti oltretutto tra una fascia d'età tra i 40 e i 70 anni io invece ne ho 21 e boh anche la gente mi guarda un po' strano poi io sono qui con imbaragato con lo zaino con la tracolla sembro un poveraccio mentre gli altri giornalisti seri sono un po' più bellini però vabbè insomma siamo fighi lo stesso andiamo? riesci a seguirmi? senza cascare intendo allora ragazzi adesso ci troviamo in una zona un po' proibita perché questa è la zona riservata alla stampa quindi io posso accedere perché ho la credito stampa e quindi venite un po' con me a vedere com'è questa questa in sostanza è la zona in cui abbiamo fatto un po' di interviste faremo altre interviste nel frattempo vi faccio vedere un pochino com'è questo ufficio stampa vediamo se possiamo entrare allora per esempio questo qui che ho alle spalle in sostanza è un set già allestito per fare un'intervista perché quando siamo venuti qui per fare l'intervista noi siamo venuti con la nostra attrezzatura quindi con le nostre macchine da prese le telecamere però ci hanno detto che avremmo dovuto utilizzarle loro perché loro praticamente hanno già settato tutto hanno settato l'audio hanno un boom hanno settato le videocamere e noi utilizziamo le loro in più se vogliamo possiamo fare qualche ripresa con le nostre lo fanno evidentemente per ottimizzare i tempi visto che sono concessi 5 minuti a intervista che sono veramente pochissimi quindi vorranno fare le cose abbastanza in fretta